Ha gettato un involucro dal finestrino della sua auto mentre era inseguito da una pattuglia dei carabinieri. La fuga però non è proseguita e dopo il fermo gli uomini dell'arma hanno recuperato l'involucro trovando al suo interno 90 grammi di cocaina purissima. È accaduto sabato scorso, poco dopo le 14, a Resana, lungo la Castellana. In manette è finito un 23enne, barista della zona, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri di Castelfranco Veneto, perquisendo nelle ore successive la sua abitazione, hanno rinvenuto 5.170 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni bilancini di precisione. Il giovane non ha saputo dimostrare la provenienza del contante, denaro che poi è stato sequestrato in quanto probabile frutto dell'attività di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari di Treviso, in seguito alle indagini dell'arma, ha convalidato l'arresto e imposto al 23enne l'obbligo di dimora nel comune di residenza in attesa del processo. Il barista potrà recarsi a lavoro, ma non potrà uscire dal comune di Resana e dovrà rincasare nelle ore notturne. Compito dei carabinieri sarà di accertare la provenienza dello stupefacente, con ogni probabilità destinato ad una clientela locale e nella vicina Castelfranco.